il timballo allora mi chiamo mia amica mi dice mamma Asia del Lidera il timballo della nonna Censina come la faceva la nonna Censina e va bene il timballo cos'è allora si prepara il sugo di carne di carne mista un po' di carne mista maiale e quello poi si prende la carne fitte tra le polpettine sempre con la cannellista più carne macinata buona e un po' di pelle il maiale si fa un sugo il sugo tantissimo 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 ovvio c'è la nonna e basta quando intanto fai le polpettine le prepari e le metti e le fai piggere un po' per il fai piggere un po' per colare dall'olio e le metti insieme al sugo al sugo poi quando tutto è pronto perché poi c'è tantissimo questo cavolo di sugo della nonna Censina e si cucina la pasta la mezza dita che non l'ho trovata da nessuna parte e non l'ho trovata da nessuna parte no quindi quindi io ho già la pasta infatti che mi faccio vedere anch'io perché sennò magari sono i capelli bagnati il scherzo non si vede poi vabbè ci sono ora basta o me decidete quindi si mette uno stato di 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 sugo su di sugo sul fondo della padella e poi mette la pasta già un po' più precondita si affetta la mozzarella che è la scamorza non la mozzarella perché la scamorza non è una mamma guagni si volta e si mette anche come la lasagna no che farà adesso quello che non c'è un po' di tanto il formaggio anche il formaggio ci mette un altro strato di pasta un altro strato di pasta pochettina mmm buona mamma che buona mamma buona mamma la cue! buona più! guarda! 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 ok! io direi che questa parte alla base stai! hai! aiutare la piscina normalmente no perché è normale e guacca 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 allora adesso di saper tutto fu finta di sapere no di saper nulla fu finta di saper tutto fu finta mi ricordo neanche più la mia passaporte d'arte saper tutto fu finta di saper nulla l'avete capito non ho scelto certo che ho scelto l'amica però c'è una cosa che sta accadendo non ho scelto 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 è in Beah, 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 beah. Io direi che basta. Uno, due e tre Aspettando che riforniamo Aiuto E adesso in forno In forno Adesso fa un po' di ammigliamo E voi non sapete che sapore ha Va bene Vi ho fatto vedere il famoso timballo Com'è, come si parla Sarà buonissimissimo Aspettando i miei cucina Buon Natale 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 Buon Natale